rispetto alla grande prestazione di mercoledì con il Benevento e aggiungo anche quella precedente con la Juventus che cosa serve ancora di più a questo Verona per fare risultato contro il Milan che ha avuto un rallentamento in queste ultime giornate ma resta una squadra di grandissimo livello? Mi sembra che hanno vinto contro Roma a Roma, poi hanno parigiato con Udinese ma una partita completamente diversa perché Udinese non è mai facile da battere perché si chiudono bene, non danno spazi e con tante altre squadre hanno fatto così a me Milan piace molto sia nella scelta dei giocatori che hanno preso ultimamente perché sono tutti quelli che io quando immagino il giocatore come deve essere sono quelli del Milan, vuol dire dinamici, tecnici, di corsa, di ritmo, hanno scelto benissimo e poi anche debole per Pioli che è uno così normale e bravo che ti viene voglia di tifarlo e noi domani penso che dobbiamo andare oltre a Benevento bene però abbiamo fatto certi errori che non sono stati puniti e che se li ripetiamo saremo puniti, dobbiamo fare una partita perfetta sicuramente se vogliamo essere competitivi poi il risultato dipende di mille cose Fa molto piacere che definisci Stefano Pioli che noi abbiamo conosciuto tanti anni fa come l'hai definito perché davvero è un ottimo tecnico ma soprattutto una brava persona io al di là di quello ti chiedo, il Milan è la squadra che in Europa ha calciato più tiri dagli 11 metri cioè calci di rigura, addirittura 16 in 26 giornate di campionato significa qualcosa questo e se sei in apprensione visto che Arbriterà Orsato che l'anno scorso col caso Pessina e il caso Stepinski così era al bar grazie io non neanche sapevo di Stepinski né di Pessina cioè io penso veramente che noi abbiamo quando vedo il campionato nostro campionati da altre parti anche in Europa quello che succedeva cioè io penso che i nostri arbitri sono migliori in assoluto come compressione del gioco come anche comportamento di quarto uomo cioè a me veramente ho buone sensazioni penso che con il VAR si è migliorato molto ci sono ancora errori ma molti di meno veramente ultimamente non ho mai pensato degli arbitri cioè non sapevo neanche di Orsato, di Episodio in loro se li danno rigori vuol dire che entrano tanto dentro l'area di rigore e che sono molto bravi uno contro uno cioè le caratteristiche che hanno loro da Rebic, da Leao, da Chessi, da tutti quanti quando entrano dentro sono pericolosi è una squadra bella da vedere se devo scegliere una squadra cioè mi piace vedere Milan come gioca non ho pensato all'arbitri nella mia risposta Ti chiedo se insomma tu sei sempre stato molto realista giustamente però sei anche chiaramente un allenatore ambizioso ecco ti chiedo se hai anche tu la sensazione pensando anche in prospettiva che a questa squadra bastino giusto due innesti di qualità per poter veramente combattere per qualcosa di importante e poi tu per la prima volta insomma dopo la partita col Benevento hai detto io voglio provarci perché arrivare nonno, arrivare ottavo non è la stessa cosa che arrivare ai freddicenti io penso che c'è un abisso penso tra le prime sette quelle che sono là e altre come tutto come scelta di giocatori economicamente e tutto poi penso anche che ci sono 4-5 penso Sassuolo, Fiorentina Caglia di Torino che ha una potenzialità economica molto molto alta e non riescono anche facendo bene tutto organizzati tutti bene non riescono ad entrare nel quelle noi non siamo a questi livelli ma neanche vicino cioè noi molto bene cioè molto bene ma non per dire adesso io metto due noi siamo forti no per me no che non toglie che io voglio il massimo cioè noi cioè i ragazzi devono sapere che manca poco per salvezza ma anche che si giocano qualcosa di speciale perché non è che contano sempre i soldi il nome tutto così e che vanno al massimo poi si riescono non riescono cioè io non lo so però devono andare al massimo non devono accontentarsi pensare no devono dare il massimo possibile di provare di fare ancora meglio di quello che stiamo facendo e poi vediamo cioè è importante come ho detto fare altri punti per salvezza per essere sicuri ma se c'è possibilità di fare qualcosa di speciale bisogna andare oltre e provare ti chiedo solo una cosa su Faraoni una parola perché non parla nessuno veramente di Faraoni si parla sempre di Zaccagni giustamente di Barak però Faraoni credo che sia uno dei migliori esterni del campionato ma secondo me si parla di Davide no cioè anche ha avuto le richieste cioè da un giocatore che comunque arrivava da stagioni così così in un anno e mezzo è diventato un giocatore io lo vedo abbastanza completo cioè che fa la fascia fa gol gioca bene difende benissimo gli pesava un po' di non aver fatto gol prima parte di stagione adesso ha fatto due di fila poteva fare terzo e io spero che continua così che ha raggiunto un livello cioè sai quando uno fa un anno e mezzo bene poi non è un caso che dici gira bene cioè vuol dire che che ha raggiunto un livello ottimale è un ragazzo poi che è veramente molto attento su tutto e spero che continua così al posto dell'infortunato Tamese non è infortunato Tamese lo dicevamo esattamente e poi ieri Giacomo Reva oggi ha fatto allenamento e domani gioca lui perché perché penso che sta attraversando un momento di forma cioè importante domani se tutto va bene non succede niente di particolare gioca lui lei qualche mese fa aveva inserito il Milan nel ristrettissimo gruppo di squadre favorite per la vittoria del titolo l'ha confermato anche oggi dicendoci che comunque lei apprezza molto il modo di giocare dei rossoneri la pensa ancora così non in riferimento al gioco ma pensa che il Milan sia ancora in lizza per lo scudetto o ritiene quel discorso chiuso e pensa che comunque sia una candidata autorevole per il secondo e il terzo posto no è ancora lunga penso che penso che che il Milan questo anno ha dimostrato cioè ha dimostrato tante cose è una squadra bella bella da vedere dinamica a me piace tanto corrono tantissimo cioè tanto il centrocapisti attaccanti esterni fanno fanno tanti chilometri tanto ritmo a me del Milan di questo anno mi piace tutto mi piace vederli mi piace anche come come hanno scelto come ho detto prima giocatori di qualità ma dinamici e secondo me ancora sono in gioco mi sembra che anche loro ci credono tanto e sono dentro questo è sicuro